Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 11 maggio e parliamo di analisi ciclica e voluta su DAX e su Fuzzimib. Come state vedendo abbiamo aggiornato i massimi. Paga rimanere in overnight anche durante il weekend quando si hanno chiare determinate cose, paga. Ed effettivamente, a parte la chiusura del gap per cui eravamo già andati a target, successivamente non siamo riusciti a rompere qua, wow, finalmente poi siamo andati a salire e per bene. E attenzione perché il nostro target, come ben sapete, è un livello superiore a quello a 11.235, il massimo fatto appunto nelle precedenti giornate. Anche qui potete vedere che tutte le medie mobili, anche quelle che sono un pochino più lunghe diciamo, si stanno orientando verso l'alto, per cui c'è una buona spinta a rialzo. Siamo sopra la cumo, siamo sopra tutto il resto. E anche qui potete vedere tranquillamente che all'armi a parte che ci inguettano, il nostro inverso è arrivato a 1, 2, 3, 4, 5, 6 candele e noi siamo già sopra. Siamo a, dunque, questa passa a 11.029, noi siamo a 10.965. Se andremo quindi qui sopra, superando quest'altro livello, a breve avrete anche, parlo per chi aderisce al gruppo premium i livelli intraday dell'algoritmo, a breve avrete anche i livelli di algoritmo, ma se supereremo appunto questo livello, continueremo ad andare su. Anche perché? Molto semplice. Uno, abbiamo, che qui è possibile che sia partito serenamente il quinto t-3 alle 15.45 di venerdì scorso. Secondo, continuiamo ad essere in tendenza a concetto volumetrico che non esiste nella ciclica normale. Terzo, abbiamo tagliato in golden cross, anzi, siamo in golden cross perché la media mobile a 50 periodi è tagliato dal basso e dal sol alto quella a 200. Quarto, il nostro secondo t è arrivato soltanto a 5 t-3 su minimo 6, massimo 11, media 8, quindi ha tutto il tempo per continuare a spingere verso l'alto. Perché ha tempo per spingere verso l'alto? Perché è il secondo t di questo secondo t più 1 e dovrebbe sviluppare appunto prima della sua chiusura magari appunto un massimo superiore a questi 10.235 e poi scendere. Ed essendo arrivato soltanto al quinto giorno, qui sono solo segnate 4 candele perché c'è l'end of day, spazio e tempo ne ha. Soprattutto dopo una partenza in tendenza, ma in cui si è rimasti molto a riflettere su determinati livelli. Per cui rimanere in overnight sta pagando, in questo momento posso liquidare con più punti rispetto a quelli che avevo venerdì scorso, sono molto felice. Altre cose da dirsi, inverso, siamo arrivati a quanto di tempo? Da questo massimo a per ora questo massimo, siamo arrivati a 34 bar, c'è spazio per salire fino a 44. Attenzione, dato che possiamo essere in chiusura di siamo cauti, altra cosa, qui può aver chiuso il t più 3 inverso, il sesto? Teoricamente sì. E da qui può essere partito il nuovo t più 3 inverso con 1, 2, 3, 4, 5 candele sotto questo massimo? Anche. Anche. Quindi teniamo d'occhio anche questo genere di ipotesi. E riallargando il grafico per poter fare trading serenamente, eccoci qua, consideriamo anche questa possibilità che da qui o da qui sia partito, anzi da qui no, non è possibile, perché abbiamo avuto meno candele. Vi controllo per sicurezza perché sia esatto. Qui o me. Beh, oddio, 21 candele, lo sapete, quindi o da questo massimo o da questo massimo può essere partito un settimo di meno 3 inverso, che è già totalmente vincolato a ribasso. Ovvero a rialzo di indice, spinta verso l'alto. però rimaniamo sulle condizioni più semplici. È possibile che il sesto T-3 inverso possa chiudersi a breve e poi vedremo se farà di che entità farà il ritraccio per il nuovo T-5, l'inverso che crea la partenza, i presupposti, per il settimo T-3 inverso e poi, in caso di violazione del massimo che avrà creato, ritorneremo ad andare eventualmente long, ma non è sui grafici, è quella che è l'impostazione di base che vorrei appunto soltanto passarvi. Torniamo invece al Fuzzimib. Fuzzimib, wow! Nonostante tutto quello che ci avevamo detti, ovvero il discorso che sia lento, bla bla bla, eccetera, partenza in gap up, per cui chi è rimasto long nel weekend si sta sfregando le mani e quindi molto probabilmente abbiamo avuto una cosa molto semplice, ovvero chiusura a 33 barre del quarto T-3 partenza di un quinto T-3 dalle ore 16.45 di venerdì e a quante ore siamo di sesto T-3 perché il discorso è identico siamo solo a 12. Quindi ha tutto il tempo per salire e è andato in ritardo esattamente come Dax a chiudere il gap down, ci ha fatto soffrire molto di più teoricamente se fossimo stati a tradare l'indice e guardate qui stiamo per andare in golden cross quindi situazione simile ma ancora più vantaggiosa su Fuzzimib per un long anche perché qui il T inverso, il T settimanale inverso non può aver chiuso con un sesto T-3 di durata di 13 barre per cui si spingerà ancora il rialzo per buona parte della giornata per lo meno fino alle 12 minimo fino alle 12 di questa mattina minimo minimo perché sapete che abbiamo 6 ore minime di T-3 anche per l'inverso questo è quanto direi che se l'analisi vi è piaciuta mettete un like sottoscrivete il canale cliccate sulla campanella e tutte le altre cose per me è già una splendida giornata lo spero che io spero che sarà lo stesso anche per voi vi auguro ogni bene a inizio appunto di settimana buona giornata a tutti